musica musica what the aaaah aaaah musica 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 akuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio camera 89 da come avete visto sul titolo nel titolo di questo video oggi abbiamo i pacchetti di fifa ultimate team che ho pagato io con i bitch money dimmelo non sono i normali pacchetti no sono i teams aaaah che se mi ricordo male scato le voci quindi tutte sbrighi allora abbiamo ambrogio che lui è un po' più molto più esperto di fifa i pacchetti li apro io però gli li regalo a lui praticamente io li uso per mio fifa sono centile però sono sincero io ho sempre visto ad aprire i pacchetti no perchè io adoro i video mi piace e io adoro vedere i video dove aprono i pacchetti cioè se mi piace a me vederli perchè stai collati e dici ooooh esatto raga vi dico una cosa se sto video raggiunge i 5000 mi piace i 5000 mi piace e minimo mille condivisioni ricompro altri pacchetti ok d'accordo sono soldi perfetto allora dobbiamo andare su il mio club negozio andiamoci incrociamo le tita raga vai fifa pacchetti oro giusto? ci siamo ci abbiamo 99.521 crediti esatto esatto perchè ha comprato i crediti ho comprato 100.000 crediti i bianchi sono falcoscieri con leggende ma madonna oh buono Simo che hai fatto io so quante cosa ho eh tra l'altro sto anche ancora uploadando i video ma regà da quanto è che stiamo uploadando i video Simo? non portarci ne puoi comprare al massimo 10 nooo eee eh lo so perchè è finita quasi la cosa regà sciloro mazza e buccia di culo aprite dai e sta maupà e sta maupà quindi ci metto un po' di più regà vabbè comunque l'importante è uno se lo siamo preso vabbè se ne fanno una in ogni 3 minuti la fanno lo stesso vai eccoloooo ronaldo bianco chi è? humbles mirante fabio contrao questo buonissimo buono? è buono è buono amlus amlus vabbè presli snates ramos e vabbè poi ci stanno un po' di contrati tutta roba che serve a me oh vedi chi è quello? e perchè questo state qua? perchè ba state qua? è un doppio ah perchè ho doppio ah ok come faccio? allora mu fai l e t l t l t a posto ok questo chi è? e che cacchio ne so io? che cazzo ho qua? che hai fatto? l t ho fatto? noo rimane sui nuovi oggetti riva ancora ah ok e tu mi hai detto l t l t tu non sai prendere l t ah l t sei sicuro che vuoi tutti oggetti il tuo club? si ok perfetto e qui ho stoppato l'upload e ti devi immagrare va si va sul negozio che manca poco gioca al negozio gioca al negozio vai i pacchetti di oro vai i pacchetti di oro vai un altro regata dove ti metti mi piace quanto manca? 8 minuti vai compra ok noi scartiamo così si si facciamo ancora 84 mila crediti quindi ne potremo comprare altri 4 o 5 da pacchetti mamma mia attenzione attenzione c'è il bigno nero c'è il bigno nero c'è il bianco con lo bianco con lo bianco con lo bianco mi piace una leggenda che è? ah ma zera che era? non lo so te scassi ma venga caccia carmelo bianco no guarda come rite ma è felice il regno no vai giù giù no vado e qua è mollo si fa fammi vedere come è fai a casa poi che pacchetto che merda va a destra 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 oh ci abbiamo lo stemma del bayern monaco o che buco del culo dai il mio hotel club dai vai il pacchetto di merda vai grande 1500 eh esatto 1500 15.000 spesi così poi guarda pollice a nessuno vi sentite caldo vai 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 ancora mi ricordo 5.000 mi piace ne compriamo altri vai si vai per forza per forza per forza per forza per forza bianco 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 non so che era mai nero 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 e blu nero e blu 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 oscar che cazzo va a bantone non è basnas poi tarosana rudy marin ragagna oscar m200 esatto adesso però tutte le forme fisiche con la m serve a me un bel pallone che bello mi ho trovato un pallone 15.000 criti per il pallone mamma mia che culo vai due pacchetti e merda giusto il primo ragà ruscio vai ancora ancora vai 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 sei minuti a voglia apri a voglia apri nero nero blu 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 e' un blu della madonna questo e' buono e' un blu della madonna ahhhhhhhhhhhhh l'amber Johnson Con il terzino destro ma va bene perchè è veloce, Perrin, vabbè di cazzo, ma chi è? Eh, a schiena, una massaggiatrice, forma fisica, allenamento, lo stemma, vabbè butta dietro al club, vai Ma però non stiamo appiancazzi Te fidi, dammi qua, te fidi dammi qua Te fidi dammi qua, vai ah Eh, ti faccio dei kick come hanno a fifa Vai Olè, olà, olì, tutà, magica bulla, chi ti sa cuola? Adesso viene un blu, tutto quanto è vero, una squadra, vieni a tribù Magica bulla, va, ecco blu da qua Con calma, con calma No, 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 mi ha fatto perdere la cosa No, ho spaventato Era l'enfasi AAAAAAAA ERA L'ENFASI GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOMES GOMES Mi piace, il portiere va bene, GOMES Che, sto sbruschi Eh, bebe, bebe, aspetta Jekar Keita Keita Va Keita Alza Prucchetta Grinch Sndra Tuso Oh stadio Stadio nuovo E' un pallone No, 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 da Io È l'ultimo questo insieme No, aspetta È l'ultimo pacchetto Vabbiamo due d'oro, scusa eh Ma vai con Team Season, continua O sono Messi Vado a Messi, va Vado a Messi Vado a Messi Piamo se Messi Questo, no? Vai Messi Vai Messi Vai Messi, blu Magari io lo trovo Messi Mamma mia blu Ma nero Ma pure nero, ma basta Nero Messi blu No Messi Messi Vai 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Caballero, vabbè L'ultimo ortiere Vaffanculo Ma che pacchetto stupronzo Dei divisi Oh stadio Mamma mia Vieni qua No, potevo comprendere l'ultimo con un figo Ok, signori L'ultimo 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 Da quindicimila Insieme Vai Pronto Vai su Un Due Tre Vabbè C'è una cosa incredibile Esce qualcosa di eccezionale Non ci ha comprato mai La scossa del dito Vici Lo sentiamo pascos Mamma mia Esce uno Gervinio 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 Eccolo 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 Poli Va bene pure questo Poi poi Io fai niente Formà sviluppo Non trochia quello Underglanders Già ce l'avremmo Brunta pure E' divisa da la juve E' divisa da la juve E' divisa da la juve Che schifo Che schifo Che carnavalte tutta la nuova Aspermetti Che belli sti pacchetti Ohhhh Vabbè! Signori Quindi ragazzi 5.000 mi piace 5.000 mi piace 1.000 condivisioni Spendo altri soldi Per comprare i team Se ci stanno la prossima volta Perché sono quelli da 30.000 Le promo 3-4 Signori se il video vi è piaciuto Buon liceo in su commentate e condividete Al prossimo appuntamento con il vostro Ciao